Ecco l'entrata in campo delle due squadre, Virtus Castelflentano con la classica maglia, la seconda divisa bianca con i risvolti giallorossi, mentre il Mario Tano bianco-nera. E' la quarta gara del campionato, seconda fase categoria allievi, adesso c'è il sorteggio. Forza ragazzi andate a salutare. Ok andate a salutare quello, se vi volete fare dopo la foto me lo dite subito prima che arrivi l'arbitro, se lo volete fare. Ok toglie su e facciamo una foto.